È iscritto a parlare il deputato Mattiello, ne ha facoltà. Grazie Presidente, colleghi, colleghe. Io intervenendo a favore della istituzione di questa Commissione voglio usare questo tempo per condividere semplicemente due auspici. Il primo auspicio è che questa Commissione, almeno relativamente alla mafia o meglio alle mafie, come ancora ci hanno incoraggiato a specificare i nostri amici siciliani, palermitani, che questa Commissione antimafia sia l'ultima volta che la istituiamo, sia l'ultima volta che ci sia il bisogno di istituire una Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie nel nostro Paese, perché abbiamo preso sul serio, molto sul serio, la lezione di Giovanni Falcone. E quando Giovanni Falcone diceva che le mafie sono un fatto umano e che come tale hanno avuto un inizio e avranno una fine, ebbe prendere sul serio queste parole, significa non voler convivere in nessun modo con le mafie, non voler convivere nemmeno attraverso quella forma di convivenza che talvolta rischia di essere pelosa e corrotta, che è un certo contrasto alle mafie di routine e di facciata, un certo contrasto che punta a contenere la violenza delle mafie entro certi limiti sostenibili, ma non a liquidare il fenomeno delle mafie. Noi dobbiamo sognare più in grande, dobbiamo assumerci una responsabilità maggiore, la responsabilità di liquidarle le mafie. Ecco che allora il secondo auspicio e ultimo che voglio condividere in quest'Aula, oggi che istituiamo questa Commissione, è che questa Commissione, mutuando una categoria che è stata adoperata dal Governo nel suo insediamento, sia proprio una Commissione di servizio, una Commissione di servizio che venga percepita come tale soprattutto da quelle persone, ne sono tante in questo Paese e sono state evocate dai miei colleghi e le mie colleghe che sono intervenute e intervenuti prima di me, da quelle persone che in questo Paese si impegnano quotidianamente, concretamente, per sbarazzarsi delle mafie. E allora che la Commissione venga percepita come un luogo, un'occasione, uno strumento di servizio, di ascolto, di sostegno. E penso prima di tutto agli insegnanti, penso prima di tutto ai maestri, penso prima di tutto alle scuole, perché abbiamo capito in questo Paese che la forza delle mafie sta fuori dalle mafie. È stato già ricordato. La forza delle mafie sta in un certo modo di intendere le relazioni sociali, sta in una certa cultura. E' il luogo nel quale si costruisce cultura, è un'altra cultura rispetto a quella delle mafie. Sono le scuole. Ecco perché le scuole sono al centro. Ecco perché quando chiesero a Falcone, ma lei cosa pensa, dottor Falcone, dell'operazione Vespri Siciliani, dell'esercito in Sicilia? Falcone disse, certo che lo voglio l'esercito in Sicilia. Voglio un esercito di insegnanti, perché la mafia teme la cultura. E allora noi dobbiamo ripartire dalle scuole, mettendo in crisi attraverso la nostra azione politica i modelli culturali che foraggiano le mafie. Anch'io penso a Lea Garofalo. Anch'io penso alla violenza subita da Lea, da Denise e da tante altre donne in questo Paese che hanno pagato con la sofferenza, la solitudine e la morte un solo sogno, quello di uscire dal branco mafioso. E quanto c'è di dilagante in questa cultura proprietaria della donna, dico provocatoriamente, della femmina, in quest'Aula ce ne siamo occupati soltanto qualche giorno fa. Ma una Commissione antimafia che si è di servizio, pensando agli amministratori pubblici, sono stati richiamati dalla collega Costantino poco fa, quindi non lo faccio. Gli amministratori pubblici che presidiano quotidianamente il nostro territorio, che sono spesso baluardi presi di mira dalla violenza mafiosa. Allora penso ad avviso pubblico, penso alla Carta di Pisa, penso agli strumenti già immaginati per rendere le nostre amministrazioni maggiormente impermeabili. Penso ai magistrati, agli uomini e alle donne delle forze dell'ordine. Penso che quest'anno ricorderemo, dopo 30 anni, l'omicidio del giudice Bruno Caccia. Il giudice Bruno Caccia veniva ucciso 30 anni fa a Torino, era il capo della Procura di Torino, e veniva ucciso 30 anni fa dal sodalizio criminale tra Andrangheta e Cosa Nostra. E ancora oggi c'è qualcuno al Nord che si stupisce della presenza delle mafie. 30 anni fa le mafie in Piemonte erano già così arroganti, così radicate da decidere e pianificare l'assassinio del capo della Procura di Torino. E penso agli uomini e le donne delle forze dell'ordine, che con il loro impegno e il loro sacrificio ci ricordano che questa faccenda è faccenda che ci riguarda tutti, da Bolzano a Trapani. E basterebbe evocare la storia di Margherita Asta e della sua famiglia distrutta per cogliere il legame vero e non retorico tra Bolzano e Trapani. Penso all'altra settimana che stavo a Trieste, e ancora ricordavamo Eddi Cosina, Eddi Cosina, poliziotto, morto con Paolo Borsellino, lui nordestino, ai suoi colleghi che gli chiedevano ma che ci fai a Palermo con Paolo Borsellino, rispondeva sono italiano e sono servitore di questo Paese, di questo Stato, ed è morto a Palermo il 19 di luglio. finisco con l'ultimo volto che voglio evocare, è il volto di un siciliano, ancora di un siciliano, a cui siamo tutti molto debitori, di Vincenzo Agostino. Vincenzo Agostino è quell'anziano con la barba lunga, 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 non se la taglia dall'89, non se la taglia da quando il 5 agosto dell'89 qualcuno ha voluto ammazzare suo figlio, Nino Agostino. Nino era un poliziotto, ed era un poliziotto che aveva intuito qualcosa di più e di troppo rispetto al fallito attentato alla D'Aura, il tritolo lasciato per Falcone. Nino Agostino aveva capito che lì non c'entravano soltanto i mafiosi, il 5 agosto dell'89 lo aspettano davanti a casa e gli sparano. Sua moglie, la moglie di Nino, è lì con lui quando lo colpiscono. Fa in tempo girarsi e a gridare a coloro che sparavano a Nino io so chi siete. Sono le sue ultime parole perché ammazzano anche lei. Era incinta al quinto mese. A Vincenzo non resta altro che raccogliere tutti quanti tra le sue braccia. E sicuramente, e ho finito, Presidente, la moglie di Nino Agostino non frequentava ambienti mafiosi e non conosceva i mafiosi. Io vorrei abbracciare Vincenzo alla fine di questa legislatura e dire a Vincenzo, caro Vincenzo, puoi tagliarti la barba. Caro Vincenzo, la guerra è finita, è finita, è finita la guerra. Ma nell'unico modo nel quale vogliamo che finisca questa guerra, che non è una guerra, non è una guerra, è un attentato sistematico e criminale all'ordine repubblicano e costituzionale, quindi è faccenda di criminalità. E questo tipo di guerra che non è una guerra, caro Vincenzo, noi la vogliamo vincere in un modo solo, ripristinando, salvaguardando e difendendo il principio di legalità e l'uguaglianza di tutti di fronte alla legge. Con questo auspicio faccio i miei migliori auguri alla nascente Commissione Antimafia. Grazie.